musica 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 oddio ragazzi eccoci qui guardate su questo sfondo a bella pioggia con degli edifici e delle insegne in cinese vabbè niente è bellissimo comunque siamo qui su sleeping dogs mi è appena arrivato e sono sono presso che entusiasta di questa cosa cioè sono troppo euforico oggi sto capendo niente non sto leggendo i sottotitoli ma va bene così è la prima volta che ci gioco e lo faccio con voi ragazzi guardate guardate che grafica ho messo diciamo a medio penso di aver messo ho messo anche il texture di alta definizione spero che non laghi non laghi non dovrebbe sta a 30 fps a 60 anzi wow so che in questo momento vorrete leggere o magari se volete saltare uscire il tasto sotto nell'angolo intanto parliamo un po' di noi parliamo un po' di noi perchè avrete notato che nel canale c'è nel canale c'è il video di The Walking Dead l'ho messo e Special Ops non mi sta entusiasmando più di tanto però lo finirò per correttezza perchè lo si che deve essere lo finirò penso che ci siano 15 capitoli ma essendo capitoli diciamo da 20 minuti l'uno come avete potuto vedere diciamo che va bene così dai ok cosa sta succedendo penso che li abbiano scoperti ma quanto so questo è il gioco della Square Enix e oddio che devo fare spazio per scattare ok e intanto parliamo ok ok cos'è pesce appeso oh mio dio aia che schefa segui nanz se spazio ah oddio oddio Dixory fa male a questo gioco ah bene olè yuhuu ma guarda che atletico questo personaggio comunque stavo dicendo Sleeping Dogs Sleeping Dogs ambientata a Hong Kong eh per quelli che piace l'Oriente scusiasi per chi lo odia e mi dispiace per voi ehm in questo momento sto seguendo questo personaggio non so sto scappando dalla polizia ma quanto ne so ehm questa persona qui è una specie di sotto oh mio dio se sto combinando sotto copertura una cosa del genere wow 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 mi sto incasinando ok sono di nuovo in pista wow wow che atletico si 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 yuhuuu si è notato che mi piace questo gioco no si 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 è notato wow mi piace già mi piace mmm video ok e insomma della Square Enix ambientata a Hong Kong e siamo dei poliziotti sotto copertura da quanto ho capito però non sto capendo bene forse si capirà dopo ok continuo a correre benissimo mi stanno inseguendo entriamo qui via 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 oddio mmm non stai messo bene guaglio 1 non stai messo bene guardate quanta gente mio dio dappertutto lo stanno arrestando con la pioggia 3 capelli mmm i riflessi sul viso abbastanza fatto bene come grafica questo gioco si si bene siamo in prigione ok 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 domani 3 i cinesi non mi stanno molto a cuore non mi stanno molto simpatici però 15 anni cioè non è che mi stanno antipatici però non è neanche simpatici diciamo 9 di mezzo però vabbè non è per perché per motivi chissà che comunque si la loro cultura un po' strana e ne sono un po' estraneo un po' a parte questo vediamo cosa combinano questi due succede sempre a ho notato che ogni tanto dicono qualche parola in dovrebbe esserci questo dovrebbe se non sbaglio sbaglio se non c'è c'è bene bene e ho giocato agli altri due 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 diciamo per aspettare per quei tempi in cui c'era san andrea sta roba qua e usciva questo trocrime che offriva un pochino di più potevi fare il poliziotto sotto copertura non so se sarà ancora così in questo però dovrebbe essere molto simile scusate stavo cercando allora vediamo cosa ci propongo ma non doveva essere un poliziotto sotto copertura non mi sbaglio io vediamo che succede seems the evidence against you israel to appear audio explain that you must be a very dangerous sto qui è mezzocinese o sbaglio no non l'ultra cosa sta questo allora c'avevo ragione se io sempre ho ragione ma sono ahah 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 quindi si è otto coperto mi devo infiltrare in questa questa gang bene 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 spero che puoi portare qualcosa di più alla nostra investigazione comprendo signor guarda il più più che sia nella strada il più più che posso iniziare vabbè mi sembra un po' incazzaterlo oh in modo buona fortuna vaffanculo vaffanculo ahahah niente ehm mh rispetto rischio dubbietro extreme stress devo dire che per avere una scheda video del 2008 non sbaglio c'ho una gtx 260 dell'anvidia la sussa veramente la marca però chipset dell'anvidia devo dire che i giochi stanno andando abbastanza bene su media prima non mettevo su alta naturalmente prima era prima adesso adesso ehm dice che vado abbastanza bene però dai non mi posso lamentare eccoci qui scordi grazie 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 ahahah sapessi cosa c'è dietro bene oh eccoci qua almeno un po' d'azione spero che mi faccia oh mmm bella ambientazione non so se è veramente così Hong Kong vorrei vabbè penso che abbiano esagerato anche un po' credo che è così così ah un'animazione delle scale che i uo 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 voglio vedere come il sistema di combattimento tutte queste cose qui dai su ahah se finalmente ah 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 sembra sembra di guardare di guardare un anime quando parlano in giapponese ah allora ahia colpo di base si 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 quindi così ahh suona attacco potente si mi premo di ła wada no aspetta 1 2 e no aspetta 1 2 no ooh oh ecco perchè con catenare 4 colpi leggere conclude con colpo potent convengo da noi. Olè! Uè! Iotoi! 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 Fanno sempre questi versi tipici. Iotoi! 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 E sono... Cine... Cine americano! Ha! Beccate questo! Olè! Ehi! 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 Beh si lamentasse che si è fatto male. Eh no! Questi commenti razzisti. Allora... F! Cosa fa con F? Eh prendilo! Attacca! Eh va bene questo è tipico. Lancia il nemico in una direzione qualsiasi. Olè! Venito! Uh! Cosa ho appena fatto? Ah! Allora... Tu vieni qua. Space per sbatterlo contro... Ah ecco! Ah! Ho visto che si può fare anche con F se non sbaglio. Vediamo? Sì infatti. Sto prendendo la mano. Eh eh! Vieni te! So! So! E' il tuo turno. Mi dispiace. Ah! Posso sbattare anche di qua no? Ah! Perfetto! Alla GTA 4 vai! Ehi! Come ti permetti? Qual è? Ah! Posso colpire anche due con un calcio. Con un attacco potente. Guardate! Eh eh eh! Eh! Ah! Tu difendi eh! Beccati questi fiori! Hm! Ancora vivo sei! T'ho detto di mangiarti fiori! Via! Oddio mi sto incartando! Abbone! Va bene lo stesso! Basta che muori! Via! Via! Oddio ho cascato tutto! Non sono stato io! Afferrare i nemici! Ah! Questa sarà bella! Premier! Wow! Wow! Voglio farla anche io questa cosa! In America, man! È incredibile, man! Beh, ancora vivo! Suppongo di sì! Palazzo mezzo distrutto! Però sì, siamo... Here we are. Here we are.